Tragedia sulle strade, un 22enne di Sovere muore dopo un incidente in moto, arriva di solto il decesso all'ospedale Papa Giovanni dove il ragazzo era stato ricoverato in gravi condizioni. Dal PNRR fondi per il sostegno e iniziative imprenditoriali ad Ardesio e Onore le risorse ammontano a 843 mila euro per ciascun paese e sono conseguenza del bando Borghi che ha già destinato 1 milione e 600 mila euro alle casse dei comuni. Non solo lupi sul nostro territorio, ora sembra arrivato anche un orso, le fototrappole dei cacciatori hanno immortalato il passaggio a Sovere e Pianico. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, un ragazzo di 22 anni, Matteo Gualeni, residente a Sellere, frazione di Sovere, ha perso la vita dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Riva di Solto. Il giovane è morto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove era stato ricoverato in codice rosso. L'incidente si è verificato poco prima delle 19.30 a Gargarino, frazione di Riva di Solto. Il ragazzo era uscito per un giro in moto insieme a un amico in sella a un'altra moto. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. In un primo tempo le sue condizioni non sono parse gravi. Sembrava si fosse rotto solo un braccio. All'arrivo dei soccorsi il personale sanitario si è però accorto che qualcosa non andava. Il 22enne è stato trasportato dall'elicottero di Areu al Papa Giovanni. In ospedale ha subito un intervento chirurgico d'urgenza ma purtroppo nella notte è deceduto. Matteo Gualeni, operaio, aveva frequentato l'istituto tecnico Ivan Piana di Lovere. Lascia i genitori oltre a un fratello e una sorella. Cambiamo argomento. Ad Alzano Lombardo è stata approvata in Consiglio Comunale la variante al piano di governo del territorio che prevede la realizzazione di una strada che collegherà via Mazzini e via Piave. Dopo il no di un gruppo di cittadini il sindaco Camillo Bertocchi ha spiegato a Simone Masper i motivi della scelta. La variante è semplicemente la riproposizione di una previsione stradale che è inserita nei piani regolatori generali del Comune di Alzano Lombardo da almeno 50 anni. Una previsione importante, intuitiva, perché va a completare quella grande circonvalazione che si pone attorno ai centri storici di Alzano Maggiore e di Alzano Sopra. In particolar modo mette in collegamento la strada provinciale, la ex strada provinciale, con la superstrada attraverso una via diretta evitando in questo modo di transitare per il centro storico e in particolar modo per il nodo di via Garibaldi e di via Mazzini nel tratto che si interpone tra Piazza Garibaldi e l'ospedale. Questa strada quindi ha diversi e tanti obiettivi. I principali sono appunto quelli di decongestionare dal traffico veicolare il centro storico, quello di riuscire finalmente a trasformare a senso unico il tratto di via Mazzini tra Piazza Garibaldi e l'ospedale facendo dei marciapiedi che siano adeguati. Attualmente infatti quel tratto di strada è molto pericoloso, ci sono stati diversi investimenti, anche degli incidenti e quindi è assolutamente necessario intervenire. Importante anche perché questo tratto di strada permette di collegare direttamente le arterie di traffico principali come la superstrada con servizi importanti come l'ospedale, visto che sarà anche oggetto di un'importante ristrutturazione e anche i servizi futuri come speriamo la sede universitaria o comunque residenza universitaria, insomma i progetti che stiamo tentando di portare avanti sull'ex monastero della visitazione. Altro elemento non indifferente è il tema ambientale. Questa strada infatti riduce di tantissimi chilometri percorsi dalle auto in un anno risparmiando tantissimi quintali di CO2 non immessi in ambiente e nelle politiche ambientali che stiamo percorrendo in modo deciso sarebbe un'altra previsione importante. Ecco è importante specificare che questa è una previsione urbanistica e non è un progetto, il progetto è una fase successiva. I cittadini chiedono un nuovo progetto, un nuovo studio, se questa strada è fattibile dal punto di vista ambientale. Cosa risponde? Innanzitutto noi abbiamo il dovere di preservare i sedimi perché questa scelta non ha solo questo fine in questo momento, cioè garantire a chi verrà dopo di poter scegliere. Senza questa scelta, senza questo vincolo, chi arriva dopo non avrebbe la possibilità di fare la scelta migliore per la collettività e quindi oggi ci si limita a mettere un vincolo su queste aree. Successivamente quando ci saranno i progetti del nuovo ospedale, quando ci saranno i progetti di sviluppo degli altri servizi, allora esisteranno i dati e le condizioni per sviluppare lì il progetto e a quel punto lì anche tutti i cittadini direttamente interessati potranno partecipare nel procedimento per evidenziare le eventuali criticità e per fare in modo che questa strada sia progettata nel miglior modo possibile. Non è detto nemmeno che venga realizzata questa strada perché questo non è un obbligo di realizzazione, è semplicemente la garanzia di poter fare una scelta in futuro. I cittadini hanno giustamente il diritto di presentare le proprie osservazioni, le proprie motivazioni. È chiaro che ci sono due punti di vista diversi, a volte questi due punti di vista sono inconciliabili. I cittadini giustamente portano avanti le istanze per difendere il loro interesse privato, l'amministrazione comunale si occupa dell'interesse pubblico, dell'interesse della collettività che è per definizione un interesse superiore. È chiaro che queste istanze potranno essere valutate nel merito, in modo più qualificato nel momento in cui si andrà a progettare quest'opera per far sì che questa sia realizzata nel miglior modo possibile. Quindi tutto in previsione che la zona dell'ospedale torni a risplendere possiamo dire tra qualche anno. Ma nei progetti dell'amministrazione c'è la realizzazione di questa città pubblica che avrà un'estensione di circa 150.000 metri quadri all'interno del quale verranno inclusi sei parchi pubblici con tantissimi servizi pubblici, per lo più già esistenti, altri invece che saranno riqualificati. Il più importante è sicuramente quello che riguarda l'ospedale. Ovviamente qui la partita è della SST Bergamo Est, non è dell'amministrazione comunale, la quale ha questo impegno da parte dello Stato di un finanziamento di 53 milioni di euro per rinnovare completamente l'ospedale di Alzano Lombardo. Dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arrivano fondi per il sostegno a iniziative imprenditoriali ad Ardesio e Onore. Le risorse ammontano a 843.000 euro per ciascun paese e sono conseguenza del cosiddetto bando borghi che ha già destinato 1.600.000 euro alle casse dei due comuni. Queste nuove risorse sono invece destinate alle partite IVA, come ci ha spiegato il sindaco di Ardesio, Ivan Caccia. Ci sono a disposizione altri fondi dal PNRR per Ardesio. L'anno scorso, lo ricordiamo, il Comune ha ottenuto 1.600.000 euro dal bando borghi e proprio grazie a questo risultato ora ci sono a disposizione fondi per le partite IVA. Come funziona? Sì, allora innanzitutto giova a dire che il finanziamento del PNRR a disposizione per i comuni che erano stati finanziati era duplice. Da un lato gli interventi che riguardavano la pubblica amministrazione, voglio ricordare che in provincia di Bergamo sono stati finanziati solamente il Comune di Ardesio, il Comune di Onore, il Comune di San Pellegrino Terme con questo bando importante per un importo di 1.600.000 euro. Dall'altra parte la seconda linea era quella che metteva a disposizione delle risorse per le partite IVA, quindi in senso generale non solo da attività dal punto di vista commerciale, ma tutte le partite IVA, delle risorse consistenti, 843.000 euro, attraverso questo bando editato direttamente dal Ministero della Cultura, destinato alle partite IVA dei comuni che sono stati beneficiati dal bando Borghi. Appunto per i comuni di Ardesio sono 843.000 euro di progetti che possono essere presentati da tutte le partite IVA, chiaramente con un'attinenza con il progetto presentato dal Comune, quantomeno nei risultati finali e nelle finalità dei progetti. debbono essere presentate le domande direttamente al Ministero tra l'8 di giugno, il bando si apre l'8 di giugno e l'8 di settembre. 843.000 euro sono degli interventi fondi davvero importanti, tutte le partite IVA possono presentare la domanda. Come dicevo però le domande devono avere un'attinenza con le finalità che il Comune aveva scritto nel suo bando, ovvero le nostre finalità per Ardesio erano culturali, turistico-ricettive e sociali e occupazionali. Quindi i progetti dei privati devono avere un'attinenza con queste finalità e lo spiego proprio in parole povere. Se un'impresa edile vuole cambiare la pala o il camion, difficilmente questa finalità è riscontrabile da poter presentare su questo bando. Mentre invece se un'impresa vuole ristrutturare un appartamento e aprire una partita IVA, quindi già presente o comunque da aprire come attività per fare ricettività, chiaramente questo è uno dei progetti che potrebbe rientrare. Così come se qualcuno un giorno volesse aprire una partita IVA per aprire un'attività commerciale di tipo bar piuttosto che ristorante. Anche questo è possibile, così come ad esempio è possibile probabilmente modificare e sistemare, riqualificare i propri spazi commerciali magari di un'attività di bar e ristorazione. Proprio per non disperdere questo capitale ingente di risorse, il comune di Ardesio a breve darà l'incarico a una società o a una ditta di consulenza che supporterà. Tutti quanti vogliono fare una domanda a Valeri su questo bando proprio per velocizzare e dare già le prime informazioni per presentare le domande. Un emasso è caduto questa mattina sulla provinciale 49 dell'Alta Val Seriana in località Pesa tra Gromo e Gandellino. È successo intorno alle 11.30 e fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno. La sindaca di Gandellino, Flora Fiorina, ha immediatamente avvisato sia la provincia di Bergamo, sia la sede territoriale della regione. Siamo molto preoccupati perché non è la prima volta che in zona cadono dei massi. Ci ha detto Flora Fiorina, chiediamo un monitoraggio dell'area e delle protezioni in alto per evitare che i massi raggiungano la strada o quantomeno che venga effettuata una bonifica del versante. Domani è in programma un sopraluogo da parte del geologo della provincia. Cambiamo argomento, anche la Bergamasca sta facendo la sua parte per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. A Roncofreddo, un piccolo comune di 3.390 abitanti della provincia di Forlì-Cesena, nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo sono riusciti a salvare grazie all'uso di un elicottero un neonato di soli 15 giorni che era rimasto isolato con mamma e papà senza luce e acqua. In un'intervista a Lombardia Notizie Online, il tenente colonnello e responsabile del soccorso del comando orobico Antonio Dusi racconta i momenti di quel salvataggio. Sono arrivati anche i ringraziamenti dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Vediamo un estratto di questa intervista di Lombardia Notizie. In questi giorni drammatici per l'Emilia-Romagna ancora una volta i nostri volontari e la solidarietà del nostro paese è stata messa alla prova e ha dato una risposta eccezionale. Voglio ringraziare oggi in modo particolare i vigili del fuoco di Bergamo che hanno salvato un neonato di 15 giorni da una situazione drammatica. Grazie, grazie a tutti i volontari e grazie in questo momento in modo particolare ai vigili del fuoco di Bergamo. La cosa è avvenuta mercoledì scorso, in un momento probabilmente topico dell'emergenza, nel senso che in quella giornata abbiamo effettuato molti salvataggi di persone o ai piani alti delle case bloccati dall'acqua, piuttosto che nelle zone collinari che erano isolate e ancora abbattute dalla pioggia. La sera, sul tardi, abbiamo effettuato il recupero di questa decina di persone che si trovavano in località, in comune di Roncofreddo e abbiamo organizzato un recupero con un elicottero in volo notturno, coordinando l'attività di più enti e amministrazioni, tra cui chiaramente la nostra, che è il compito comunque del coordinamento generale dei soccorsi, coinvolgendo un elicottero dell'esercito, protezione civile locale e chiaramente soccorso sanitario, perché una volta le persone sbarcate avevano necessità anche chiaramente di essere valutate da questo punto di vista. Tra le varie informazioni ovviamente che erano giunte comunque c'erano continui contatti telefonici che per fortuna non erano interrotti con le persone che erano da salvare. In certi casi siamo riusciti a mandare anche delle squadre a piedi sul posto che le assistevano in attesa chiaramente del recupero con l'elicottero, anche perché farle scendere poi a piedi sarebbe stato molto impegnativo per delle persone che erano già provate. Abbiamo, sì, un'altra frazione, viveva insieme ad altre persone anche questa 95enne, che nel momento in cui chiaramente ci è stato segnalato, nel momento in cui abbiamo organizzato il salvataggio. Gli interventi ormai sono ricondotti all'ordinarietà, nel senso che le risorse locali riescono a far fronte a quelle che sono le richieste di soccorso. Chiaramente non era così la settimana scorsa, insomma, quindi fino a mercoledì, da giovedì in poi la situazione pian piano è andata normalizzandosi. Tant'è che il contingente di Bergamo, ha detto il coordinamento, oggi in questo momento è in fase di rientro, insomma, quindi senza nessun avvicendamento. Non solo lupi, sul nostro territorio sembra sia arrivato anche un orso. Gli avvistamenti a Sovere e Pianico. Sentiamo Simone Masper. Due segnalazioni del passaggio di un orso in provincia di Bergamo sono arrivate grazie alle fototrappole di due cacciatori nella zona vicina al lago di Zeo. La prima porta la data del 21 maggio ed è stata registrata da un cacciatore capannista tra Pianico e Desmate, frazione di Soltocollina, grazie alla fototrappola posizionata nelle vicinanze della struttura. La seconda segnalazione è invece arrivata da un cacciatore impegnato nella caccia di selezione al cinghiale, grazie alla sua fototrappola posizionata a Sellere, frazione di Sovere. L'orso è stato fotografato alle prime ore del giorno di domenica 22 maggio. Segnalazioni della presenza dell'orso sono arrivate anche da Rovetta. Nessun allarmismo, già in mattinata ci siamo confrontati con la polizia provinciale che ci ha spiegato la situazione, spiega la sindaca di Sovere, Federica Cadei. Non c'è al momento nessuna visaglia di pericolo. È molto probabile che sia uno solo e si sia già mosso dal nostro territorio. La via è la pace, questo è lo slogan lanciato dai comitati di quartiere nembresi insieme alle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo, alla Biblioteca e all'Associazione dell'Esco. Il centro di Nembro e le vetrine dei negozi ospitano opere di artisti locali e messaggi dei bambini a difesa della pace. Nembro grida la voglia di pace e lo fa come? Sì, Nembro in questo momento soprattutto grida per la pace e lo fa con questa iniziativa il cui nome e il cui titolo è La via e la pace che parte dal comitato di quartiere del centro invitando gli artisti nembresi a prestare una loro opera da esporre nei negozi aperti e in quelli che aperti non sono più per lanciare questi semi, questi messaggi di pace. Accanto ad ogni opera d'arte c'è una poesia che Rita e Sara hanno trascritto a mano e per cui lungo l'asse principale del paese ma non solo, un po' dappertutto diciamo, si possano osservare queste opere con accanto le poesie. Oltre a questa presenza diciamo c'è anche quella dei bambini e delle bambine dei pressi della scuola primaria di Nembro che hanno contribuito a questa iniziativa con dei disegni e con altre poesie scritte da loro oppure appunto poesie note che parlano di pace. Tanti messaggi per urlarlo forte appunto e coinvolgendo la comunità sempre una prerogativa di Nembro. Sì, questo è diciamo il fil rouge, è una prerogativa di Nembro, condivido perché è partita dicevo come un'iniziativa del comitato di quartiere e invece si è allargata a Macchiadolia, ha coinvolto la biblioteca, ha coinvolto l'amministrazione, ha coinvolto l'istituto comprensivo Neatalpino e noi che diamo una mano siamo felici diciamo di questo risultato. Questa sera torna Antenna 2 Sport e quindi lasciamo spazio a Elisa Cucchi che ci anticipa i temi e gli ospiti di questa puntata. Come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport a partita alle 21.30 il nostro salotto si riempirà di ospiti, inizieremo con le ragazze dell'Union Volley, loro hanno vinto il loro campionato di libere categoria CSI in terza divisione, ci racconteranno appunto di questo campionato ma soprattutto anche della fase dei playoff che si apprestano a vivere a livello provinciale sognando le regionali e poi avremo ospiti in studio gli amici del Gav Vertova ma soprattutto Laura Merelli che ci presenterà un corso speciale dedicato alle mamme e alle neomamme, un corso da fare anche con i propri bambini che si tratta ogni lunedì sera di giugno e di luglio proprio nelle palestre della scuola media di Vertova e in chiusura andremo a celebrare l'importante successo del pool atletica vallesteriana con la loro atleta di punta Matilde Mologni che ha 14 anni e è diventata campionessa italiana proprio di corsa in montagna, andremo a conoscere lei, andremo a conoscere quelli che sono i suoi allenatori ma anche i dirigenti del pool, insomma un'importante realtà proprio del nostro territorio. Questo e tanto altro all'interno della nostra trasmissione, vi aspetto puntuali questa sera qui sul canale 84 a partire dalle 21.30, a dopo. Ci avviamo alla conclusione con i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20.20 la rubrica sul mondo del lavoro Work in Progress, alle 20.40 il sasso nello stagno, alle 21.30 Antenna 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.05 tempi supplementari, a luna la terza edizione del TG. E chiudiamo con l'almanacco, domani è mercoledì 24 maggio, il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 21, la luna in fase crescente sorge alle 9.10, tramonta alle 1.34 di giovedì. La Chiesa ricorda Maria Ausiliatrice. E' tutto anche per questa edizione, vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con il TG Sport e con le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per aver guardato in wereldo! Spreivedo è successo qui aiutare in le 5.iliyor,